Buonasera Carla, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, siamo a Raito, al club Raito Granata, storica realtà della costiera amalfitana. Tra l'altro sono stati proprio i tifosi qui al mio fianco a dare il benvenuto a Frank Ribéry. Qualche mese fa ricorderete le immagini di festa e c'è anche una foto che ricorda quel momento con la sciarpa appunto del club Raito Granata. Stasera naturalmente siamo qui per parlare del momento attraversato dalla Salernitana e parto subito da Salvatore Pellegrino. Un momento magico, forse addirittura inimmaginabile. Sì, se torniamo indietro ci ricordiamo un giorno d'andata molto molto complicato per noi. Poi piano 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 dopo la campagna acquisti la squadra ha iniziato a girare proprio all'avvento di Nicola. Comunque abbiamo cambiato volto e fisionomia proprio nelle fasi di gioco e nella struttura tecnico-tattica della squadra. Le cose stanno andando bene ma dobbiamo rimanere comunque con i piedi per terra perché penso che nulla è ancora fatto. Ma le partite più dure verranno proprio adesso contro Venezia e Cagliari che sono... Venezia è l'ultima spiaggia, il Cagliari, speriamo se pure il Cagliari è l'ultima spiaggia e per noi saranno fondamentali. Anche per non arrivare alla fine dove ci saranno degli scontri incrociati, dove ci sarà un Venezia-Cagliari, dove il Venezia potrebbe già essere retrocesso e la Salernitana affronterà un Udinese. Questo è un campionato dove nessuno regala niente, quindi io penso che dobbiamo giocarci partita per partita. Come diceva Iannicelli dallo studio, c'è questo trittico infernale che stiamo vivendo, molto difficile soprattutto dal punto di vista del recupero fisico. Però sono sicuro e fiducioso che il pubblico di Salerno possa fare la differenza in questa fase delicata della stagione. Saranno due battaglie, una dietro l'altra, saranno due finalissime da giocarci, ce le gusteremo allo stadio con la speranza di portare a casa risultati importanti per la nostra Salernitana. Nel salutare l'avvocato Edoardo Chiacchio che è in studio, mi faccio portavoce anche di quello che è un po' il sentiment della tifoseria, ai gol degli attaccanti, quelli che si sperano possano arrivare. Il ringraziamento di tutti i tifosi per il lavoro svolto dai legali della Salernitana che naturalmente hanno tenuto accesa una fiammella della speranza. A proposito di speranza, giovedì arriva il Venezia, una Rechi da oltre 22 mila tifosi, già venduti in prevendita 21 mila biglietti, sarà record stagionale, può essere questo il fattore decisivo? Sicuramente sarà importantissimo per noi l'apporto del pubblico, dove non possono arrivare le energie fisiche ci devono arrivare le energie mentali e queste energie mentali saremo noi a darle alla squadra con il nostro apporto che sarà sicuramente un apporto forte e costante per tutti i 90 minuti e oltre. Sarà sicuramente una battaglia molto molto complicata perché come abbiamo visto domenica il Venezia non è morto, anzi ha dato dei forti segnali giocando una partita eccellente contro la Juventus quindi non possiamo dire che sarà qualcosa di semplice, però dobbiamo crederci. Facendo un rapidissimo passo indietro, ieri sera una bella salernitana, tanto rammarico per una partita che probabilmente poteva essere portata a casa e con un discorso salvezza che poteva diventare ancora più interessante. Poteva diventare davvero interessante, sì, però dobbiamo dire che ieri sera, sì, forse un po' di sfortuna, però tutto sommato il pareggio secondo me è giusto. Stavremo firmato per un pareggio prima, anche se ho visto un ritmo, un'intensità veramente da squadra di Serie A finalmente, cioè una squadra convinta dei propri mezzi, che sa far male. Mi è incoraggiante per questo finale, un finale così lo desideravamo, lo cercavamo, c'è e dobbiamo viverlo fino in fondo per cercare di arrivare a questa salvezza, che sarebbe un traguardo veramente eccezionale, storico, per come siamo partiti, per tutto quello che è successo. Penso che come tifoseria, squadra, società, lo meritiamo. Esatto, appunto il finale che avrei detto io, hai detto tutto tu, Salerno se lo merita un finale del genere e lo vivrà tutto d'un fiato. Carla, a te la linea e ci ritroviamo tra poco per i successivi commenti, sempre qui da Raito. Rieccoci Carla, in collegamento dalla splendida costiera amalfitana, ricca di storia, ricca di tradizione, ma soprattutto ricca di passione granata. Voglio raccontarti un aneddoto, anzi te lo faccio raccontare dal signor Alfonso. La Serie A del 98-99 lei non ha potuto vederla dal vivo perché non era qui. Io stavo fuori, però adesso io ho 73 anni e sono 60 anni che qui diciamo guarda Salernitano, vedo la Salernitano, vado a vedere la Salernitano. Però quel momento che stavo fuori a lavorare ho mancato una ventina d'anni, da quando sono tornato sono sei anni e tutte le volte faccio l'abbonamento. Però, come ho detto, ho una certa età, vorrei che rimanesse in Serie A la Salernitano, per vederla un po', per gustarla. Ho visto la Serie B a Salerno nel 65-66, quando c'era Pierino Prati, però parlo un po' indietro. Però sono felice lo stesso, ho sempre visto, sono sempre andato a vederla e continuo ad andare a vedere questa Salernità. Perché ormai il cuore è granata, è così, la domenica si parte, sempre con gli amici, si va, adesso già abbiamo tutti i biglietti, abbiamo tutto l'abbonamento, abbiamo fatto tutto. E speriamo, io spero, tanto, tanto, se riusciamo a salvarci. Magari per riscattare anche quella stagione di Serie A che non ha potuto vedere. Non ho potuto vedere. Un'altra bella storia, te la faccio raccontare invece dal presidente del club Raito Granata, la sciarpetta di Frank Ribéry, quella che alle nostre spalle ha fatto il giro del mondo. Sì, diciamo che siamo stati i primi tifosi ad accogliere Ribéry al suo arrivo qui a Salerno perché abbiamo avuto la fortuna che lui alloggiava in quel momento all'Oterraito. E niente, questa sciarpetta che è stata comunque, ha avuto visibilità a livello internazionale, diciamo che ha avuto anche un grande successo perché molti tifosi di Ribéry ci hanno chiesto in privato, ci hanno scritto sui gruppi vari che abbiamo, ci hanno richiesto questa sciarpetta che purtroppo però non era più in produzione, non ci sono più pezzi disponibili, era una sciarpetta fatta per il centenario. E niente, speriamo che Ribéry dopo aver fatto una prima metà di campionato, diciamo dove è stato trascinatore, possa recuperare non solo le energie fisiche ma anche mentali per affrontare queste ultime partite dove può essere fondamentale. Perché diciamo che per me lui è un calciatore da ultima mezz'ora e se quella mezz'ora la fa ad un certo livello può essere determinante, quindi speriamo di avere questo piacere e di vederlo anche andare a segno perché fino a questo momento purtroppo non è capitato. Magari lanciamo una provocazione, una sciarpetta celebrativa per un traguardo importante a fine campionato da regalare agli amici francesi. Magari, magari, la facciamo subito, qual è il problema? Speriamo dai veramente ci siamo, te l'ho detto prima, è un momento topico, sono due partite importantissime le prossime due, penso quella più difficile sia proprio quella di giovedì perché di là poi si può innescare un qualcosa di positivo. Salvatore Pellegrino, rimarcava anche a microfoni spenti il grande lavoro di Walter Sabatini, partito diciamo con le marce basse, adesso il mercato di riparazione, l'instant team sta dando i suoi frutti. Sicuramente il direttore Sabatini non lo scopriamo a Salerno, ha una storia che vanta successi e vanta di essere uno dei più grandi anche talent scout nell'America Latina, in Brasile e in giro per il mondo. Sicuramente molto sanguigno, sposa totalmente la mentalità sanguigna e verace di noi tifosi della Salernitana. e quindi penso che il direttore sia stato in gamba a riuscire a portare a Salerno un mercato di riparazione che poi è molto difficile perché poi trovare giocatori pronti da inserire nello scacchiere, giocatori anche pronti fisicamente e psicologicamente dove semmai in altre squadre non giocavano è molto difficile. Sabatini ho criticato sicuramente nelle partite iniziali, chi mastica a Salerno tutti i giorni sapeva che comunque prima o poi quegli uomini che lui ha portato a Salerno sarebbero esplosi. Bene, naturalmente la speranza è che nel finale di stagione possano essere ancora più decisivi di come lo sono stati in queste ultime partite. A te Carla. Sì, dicevamo non credo che potremo avere anticipazioni perché come sapete lo spettacolo delle curve e dell'intero stadio Arechi perché si prevede un Arechi da pienone in tutti i settori. Oggi è arrivata anche la richiesta al questore di aprire anche la Curva Nord per avere quanti più tifosi a sostegno della Salernitana. In ogni caso stavamo discutendo a microfoni spenti di quello che è stato un po' il cammino di questa stagione dai due volti. Adesso si arriva nel momento decisivo. La Salernitana ha buone speranze, ce la può fare ma deve restare con i piedi per terra. La Salernitana deve mettere tutto il cuore e tutto quello che ha. Perché sono due partite veramente molto difficili dove sicuramente l'emotività farà la differenza. Noi come tifosi possiamo solo alzare la voce quando è possibile e creare un'atmosfera che coinvolga i nostri calciatori facendo tremare le gambe agli avversari. Invitiamo tutto lo stadio a seguire quello che è poi il cuore del tifo che è la Curva Sud per avere proprio un'atmosfera che possa dare quel surplus di energia ai nostri calciatori. Sicuramente sarà una partita combattuta, si dovrà avere pazienza, si dovrà lottare su ogni pallone, si dovrà gridare su ogni fallo laterale e ogni calcio d'angolo. E quando si dovrà fischiare, si dovrà fischiare. Il Venezia non è una squadra morta, tutti lo dobbiamo sapere, dobbiamo essere consapevoli, restare con i piedi per terra e cercare da tifosi di dare quel sostegno, quella marcia in più ai nostri ragazzi. Anche sull'errore, anche sul passaggio sbagliato, dobbiamo essere partecipi, dobbiamo essere un solo blocco che deve portare questa squadra alla vittoria. Salerno lo sa fare, l'ha fatto già in passato e speriamo che lo faccia anche sulla prossima partita che è importantissima. Come vedi Carla siamo anche cresciuti numericamente, c'erano tanti altri soci all'interno di questa splendida sede che vi invito per chi dovesse essere di passaggio a visitare perché è un vero e proprio tempio del tifo. Sono tanti cimeli, tante sciarpe e tante fotografie a cominciare dai tempi del Vestuti fino alle recenti promozioni. Ci vediamo con il Presidente Riccardo Santucci. Riccardo Santucci ci sarà bisogno del dodicesimo uomo, non soltanto per la partita con il Venezia ma anche con quella con il Cagliari perché forse è lì che si gioca tutto. Sì, sicuramente il nostro apporto sarà fondamentale. Seguiamo il diktat di Nicola, ovvero guardare partita per partita perché ogni partita per noi adesso è una finale. Quindi giochiamoci questa finale giovedì con l'augurio e con l'auspicio di portare a casa questi tre punti che diventano di fondamentale importanza perché giocare contro il Cagliari con un punto in più porterebbe comunque una situazione diversa anche nell'affrontare proprio la partita sia da parte nostra sia da parte loro perché loro sarebbero costretti a fare la partita e a vincere noi potremmo anche essere un po' più attendisti a attendere nei primi minuti, l'evolversi un po' tatticamente del gioco, della partita in sé. Quindi speriamo bene, siamo ottimisti perché fino a dieci giorni fa non avremmo mai sperato e pensato di poterci trovare in questa situazione. Ne siamo felicissimi, diciamo che il rapporto di Osmusi della quale il Presidente ha fatto il proprio motto si è creato, si è creato in tutti gli ambienti sia tra i tifosi, con la società, con la squadra, con l'intera comunità salernitana, con i giornalisti, diciamo ci siamo, ci siamo, è il momento di affrontare quest'ultima battaglia, vinciamola, vinciamola. Ci tengo a salutare prima di chiudere gli amici di Bari del gruppo di sempre a pressione di San Nicandro e all'ordine della Bari di Modugno con la quale abbiamo dei rapporti bellissimi che vanno oltre il calcio da anni ormai e voglio fargli un forte augurio per la promozione che hanno ottenuto. Salvatore, telegraficamente. Telegraficamente utilizzo anche io questa sede per salutare i nostri amici di Bari a cui siamo molto legati, questa promozione che il Bari tanto agognata, tanto sofferta negli anni addietro, Bari sicuramente non meritava la Serie C. Speriamo di non rincontrarci da amici perché vuol dire che noi ci siamo salvati e resteremo in Serie A. Speriamo di rincontrarci fra due anni ed abbracciarci ancora ma tutti in Serie A. Multiproprietà permettendo, verrebbe da dire. Carla, da Raito è tutto, io vi restituisco la linea e vi auguro un buon proseguimento di puntata.